Abbiamo iniziato qualche mese fa a lavorare su questo sito per ripristinare la flora e l'ambiente distrutto dall'incendio del 2021 e abbiamo messo a dimora le piante, le specie autoctene della flora mediterranea, della macchia mediterranea sia piante arbustive sia piante arbore come leccio, roverella, lentischio, filirea, erica, corbezzolo, rosmarino per ricreare l'ambiente come era prima dell'incendio.